Davide molto rammaricato per l'accaduto parla al tavolo con i concorrenti del fatto che qualcuno ha rotto la sua statuina del presepe che aveva realizzato un artigiano di Napoli. Il fatto che lo colpisce non è tanto l'aver perso la statuina che lo raffigurava ma che qualcuno per mettere avanti la propria statuina nel presepe ha spostato la sua indietro rompendola. E non si è fatto neanche avanti per chiedere scusa. Barulla dice che è vergognoso. Lui mentre dormiva ha sentito che qualcuno diceva. Abbiamo rotto la statuina. Ma non ha capito chi fosse perché intontito dal sonno. Davide dice non ho fatto caso a chi fosse davanti perché forse è stato proprio chi è davanti nel presepe. Che schifo dice Davide è una vergogna. Forse questo messaggio sarà arrivato a quell'artigiano napoletano del centro storico e forse in questo momento la nuova statuina sarà già in viaggio verso Davide. E sarà lo stesso forse a consegnarla a Davide. Lo vedremo alla prossima puntata. Canale YouTube Fabio Pecce